Dopo la presenza di venerdì sera del ministro Orlando Manfredonia dove si è ribadito ancora una volta che Campo è deciso a dimostrare di essere un ottimo politico, di scendere in Campo dando un appello al voto a Manfredonia e anche dal ministro Orlando per poter portare a Bari gente che possa lavorare all'interno del contesto regionale e dare maggiore spinta al volano del lavoro in Capitanata. Infatti in Puglia sono in arrivo 6 miliardi di fondi europei per la coesione territoriale che impone chiarezza di idee e rapida d'azione. Ha detto Campo le abbiamo già dimostrate e sappiamo ben farle. Nei 20 anni di amministrazione passata Manfredonia e del buon governo anche a Bari abbiamo fatto delle cose ottime per rinnovare la produttività e nell'esportazione la pesca e sull'agricoltura. Sappiamo come sostenere le piccole e medie imprese turistiche per allungare la stagione e sappiamo come affiancare artigiani e commercianti per valorizzare qualità e servizi. E in questi giorni in Capitanata scendono anche altri big della politica nazionale e locale. Fitto è stato ieri a Foggia e a Lucera mentre vendono a martedì sarà a Cerignola per sostenere la lista. Noi a sinistra. Ordinanza balneare pugliese per il 2015. La stagione balneare dura tutto l'arco dell'anno solare mentre l'apertura al pubblico per esercizio delle balneazioni va dal 1 maggio al 30 settembre. I periodi di apertura non sono rigidi. L'apertura può essere anticipata o posticipata ma di questo il concessionario titolare di stabilimento balneare deve darne notizie alla Capitaneria di Porto competente per territorio e dal comune. Durante il periodo di apertura al pubblico deve essere attivato e funzionare il servizio di salvataggio con il bagnino e la postazione attrezzata. Le modalità di funzionamento della postazione di salvataggio sono stabilite dall'autorità marittima. La zona di mare destinata alla balneazione deve essere segnalata con l'installazione di gavitelli di colore rosso saldamenti ancorati al fondo e posti a distanza di non più 50 metri l'uno dall'altro parallelamente alla costa in corrispondenza dell'estremità del fronte a mare della spiaggia in concessione. Previsto a carico dei comuni costieri l'obbligo di installare i corridoi d'atterraggio per permettere ai natanti da di porto di prendere il mare partendo dalle spiagge senza mettere a repentaglio la sicurezza dei bagnanti. I corridoi di atterraggio sono zone di mare vietate alla bagnazione ed limitate perpendicolamente dalla costa con boe di colore arancione. Sono previste poi nell'ordinanza balneare numerose prescrizioni sull'uso del demanio marittimo. E ieri inaugurata la statua di Re Manfredi. L'amministrazione comunale accogliendo e interpretando un antico desiderio di tutti i cittadini già da lontano 2011 attivo le procedure per realizzare un'opera artistica che rifigurasse Re Manfredi. E finalmente ieri è giunto il momento storico in cui la città ha saldato il debito di riconoscenza nei confronti di Manfredi di Svevia. La statua in bronzo di Manfredi a cavallo alta più di tre metri è stata realizzata sul progetto del professor Lovaglio e dalla fonderia artistica Mapelli di Cesate. L'inaugurazione è avvenuta ieri pomeriggio alle 18.30 davanti a un folto pubblico di curiosi e alla presenza di numerose autorità come il vescovo di Manfredonia, Monsignor Michele Castoro, il presidente del Parco Nazionale del Gargano Pecorella e il sindaco di Manfredonia Riccardi. Manfredonia calcio, nessuna novità in casa bianco celeste. La formazione si puntina a concluso il campionato all'ottavo posto e con il tagliando della permanenza in serie distaccando con tre giornate d'anticipo la sua automatica e matematica permanenza. Ora i tifosi sono in attesa di ricevere notizie su quello che sarà il prossimo campionato, ovvero l'iscrizione della squadra, li confermo meno di Vadacca e del Parco Giocatori. Non sulla notizia è filtrata dalla sede sull'alizzo bianco celeste, alcune indicazioni arrivano dal Digitoro circa la risoluzione del paese di Gianfranco Fiore con il Carpi e l'avvertenza di tre ex giocatori della Manfredonia. In questi giorni l'attenzione si sposta sul fronte societario, siamo tutti in attesa di conoscere le intenzioni del presidente, del resto gli stessi hanno già anticipato nei giorni scorsi che da fare ci sono delle valutazioni circa il percorso e pertanto bisogna appunto aspettare ancora qualche giorno, anche in questo caso da parte di tutti i tifosi si cerca un po' di accorciare i tempi perché questo significa anche non perdere occasioni per portare a Manfredonia qualche giocatore importante, però la voglia di tutti è di ripartire insieme anche per la prossima stagione, l'ha sottolineato il direttore generale di Toro.